Musica Direttore, la chiacchierata con i ragazzi è da poco conclusa, come si è trovato in questa sua prima esperienza? Molto bene, ma è un'esperienza che già avevo fatto in passato in un ruolo diverso, mi sembrano ragazzi molto informati, molto interessati e devo dire che il dialogo con Monsignor Nunzio Galantino, che ha una forte personalità e una grande capacità di parlare bene di teme anche difficili come i valori, sia stato ben accolto e sia stato un dialogo interessante, serrato e pieno di spunti. Il progetto quotidiano in classe, abbiamo sentito ieri attraverso la ricerca di Eurisco, prosegue a vele spiegate, tra l'altro raggiungendo sempre livelli da record. Secondo lei qual è il segreto di questa iniziativa che non sembra fermarsi dopo 15 anni? Il segreto dell'iniziativa? Il segreto dell'iniziativa è aver portato l'informazione in classe, aver fatto riflettere i ragazzi sul valore di un'informazione di qualità. Spesso si pensa che i giovani siano poco informati, che siano interessati solo a un'interazione molto debole nei social network. Io penso che alla fine il confronto con il quotidiano, l'aiuto degli insegnanti nei percorsi di lettura sia uno strumento fondamentale per aumentare le capacità di conoscenza dell'informazione dei ragazzi e soprattutto la crescita civile e la propria capacità di saper distinguere buona e cattiva informazione e saperne anche diventare i protagonisti. A proposito di confronto, e così chiudiamo, ieri quattro grandi direttori americani. Cosa dobbiamo imparare a livello di informazione da oltreoceano? Dobbiamo imparare la capacità di mettersi in discussioni, di saper cercare strade nuove, di essere un po' esploratori, mai fermarsi alle certezze del passato, mai rinchiudersi in un recinto di certezze che magari sono antiche, che forse ci fanno stare bene ma non servono più. Perfetto, grazie, buon proseguimento.